Con lo squarcio di quasi due metri, le raffiche di vento che ieri si sono abbattute sulla nostra regione hanno sollevato e scoperchiato una porzione del tetto della palestra di Catagnara di Cadoneghe. Grondaia e coperture sono state letteralmente accartocciate, lana di vetro e lamiera. Una parte del cornicione è andato distrutto. Il sindaco in giornata ha avviato sul posto tecnici comunali. La struttura, data in concessione all'associazione sportiva La Sfera, è stata riaperta solo stamattina. Solo la fortuna ha voluto che al momento del crollo di una parte del tetto, all'interno della struttura non vi fosse nessuno. La protezione civile da ieri era al lavoro in tutta l'alta padovana, da via Donizetti a Cadoneghe a San Giorgio delle Pertiche per liberare le strade dalle piante sradicate dal vento. A Piazzola ha interrotto il concerto a Villa Contarini con centinaia di persone in fuga dal temporale. Le forze dell'ordine e i volontari hanno lavorato fino a tardasera per ripristinare la circolazione insieme a loro anche i tecnici delle ferrovie per ovviare al guasto al passaggio a livello sempre all'altezza di San Giorgio delle Pertiche.